Ma ti senti scusate? Ma come? Noi nella televisione, signora, nella televisione. Ah, la televisione? Sì, sì, sì. Oh, che bello. Tanti saluti a casa. Che televisione? Scusate. Eh, te la chiedi? Sì, sì. Se te la chiedi? Sì, sì, una nuova trasmissione giornalistica. Eh, giuino, se vuoi andare su un gassario, su un gassario, non so che problema, la pensione è poca, la pensione è poca, la vita è un mondo, la pensione, giuino, giuino, giuino. E noi che centriamo noi? Ci ha preso per il ministero, ci ha preso per il ministero. Ma non ho capito che centrate, ci hanno la televisione. Sì. La televisione scende sempre dappertutto, come si dice. A proposito, mi faccio raccontare quello che mi è successo, ma in dopo il mondo. Che è successo? In dopo il mondo, c'è una buina e pace, c'è una buina e pace, perché c'è una signora che si stima appiccicando. Davvero? Sì, signora, si stima appiccicando. Che è successo? I bambini hanno detto un'altra subito, no? Ma abbiamo già saputo che oggi è pericoloso, i bambini e i bambini, specialmente per una donna. Mentre stiamo camminando, no? Una signora bella, era proprio un poco più bella e bella, questa signora, bella e buona, si stiamo in un giovinato a Red, a questa signora. Hanno detto appunto, la signora, se ne ha aggiunato che stiamo giù in un terreno. Allora, ha detto, no, giuvinato, ma che state facendo a Red a me? Ho giunato, hai discusso, il signore, sto facendo nè. E' scusato, allora, perché non me lo vado, faccio mettere la nonna. Mi è piaciuto, mi è piaciuto, che è successo la buina, che ho un po' pulmato, che non mi ricco, non mi comune. La signora, se ne vuoi fuoco. Signora, ma ci volete dire, come fate a vivere? Come fate a sbarcare il lunario? Come facciamo a sbarcare il lunario con questa pensione che è poco, ve l'ha detto, qua non basta una lira. Non ce la facciamo proprio più, non ce la facciamo. Voi dovete cercare di fare qualche cosa, perché veramente i problemi sono tanti. E per una persona come me, come faccio, come faccio, come faccio? Vorrà dire che gireremo la vostra protesta alle autorità competenti. Ah, benissimo, allora girate la protesta. Ci vediamo, ti arrivi bene, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Chiudiamo il collega, amici. Chiudi, pepe, chiudi. Chiudiamo il collegamento, grazie. Aspetta di te.